Ciao ragazzi sono Edoardo della Turbocharger World, oggi parliamo di una questione che è molto importante che sono l'indicazione di 10 cose veramente fondamentali per la preparazione perché molti mi hanno chiesto mappatura, defap, turbina oppure ancora peggio, filtro, mappatura, turbina con il fap allora signori adesso in questa sessione parliamo un attimino di come poter preparare in modo intelligente una macchina allora la prima cosa da fare a parte il soft tuning quindi un filtro a pannello sportivo e una mappatura la prima cosa è iniziare a liberare lo scarico, maggiorare lo scarico perché cosa vi ho sempre detto vi ho sempre detto che se una macchina che sia aspirato, che sia diesel, che sia benzina, che sia turbo scarica bene potrà aspirare al massimo quindi avrà un ottimo rendimento per via del lavaggio all'interno del motore e via discorrendo a livello di fluidodinamica e di meccanica questo è essenziale il diametro dello scarico dipende moltissimo dalla potenza che volete fare quindi se volete evitare rotture di turbo, esplosioni di turbo perché volete tanta coppia volete sentire la botta, tutte queste cose qua per favore cerchiamo di ragionare in una maniera un pochettino più intelligente e evitiamo un attimino le discussioni da forum e da bar che tanta coppia tanta coppia assolutamente non serve o meglio se si esagera quella coppia sotto la turbina farà da tappo in alto e visto che voi tutti quanti spesso e volentieri quando tirate tirate nella zona alta del contagiri che cosa vuol dire? che negli ultimi 1000 giri le temperature vanno alle stelle perché c'è una contropressione altissima questo porta a stress termici della turbina che se la turbina non si rompe si rompono i collettori se non si rompono i collettori si possono rompere i pistoni quindi quello che riguarda il diametro dello scarico è importantissimo stessa cosa per quanto riguarda l'aspirazione l'aspirazione, questo è un altro punto fondamentale l'aspirazione deve assolutamente essere adeguata a quello che volete fare quindi i litraggi originali, i filtri a pannello servono fino a certa potenza oltre è meglio mettere altri tipi di aspirazioni che noi della Turbocharger World possiamo fornirvi ma soprattutto possiamo dirvi quale poter utilizzare altro punto fondamentale in assoluto è la frizione perché la frizione è un grandissimo collo di bottiglia se voi mettete una grandissima potenza ma la frizione è slitta ahimè non serve assolutamente a niente quello che state facendo quindi tutti quelli che vi vendono turbine a destra a sinistra e non vi dicono di cambiare la frizione sono solamente persone che tendono a vedervi qualcosa ma non a seguire un attimino quella che è la preparazione insieme a voi passiamo da quello che riguarda la frizione noi possiamo passare subito a quello che è l'intercooler l'intercooler tende a raffreddare l'aria quindi se noi iniziamo ad arrivare dell'aria calda arrivare a caldissima perdiamo tantissima potenza fino anche a un 20% quindi serve un intercooler adeguato quindi non vuol dire tanti litri ma vuol dire un litraggio adeguato per evitare quello che è il turbo lag stessa cosa anche dei condotti cosa importante tassativo assolutamente mettetevelo bene in testa il turbo è l'ultima modifica da eseguire dovete creare il contorno per sfruttarlo al 100% c'è solo un'occasione in cui potete modificare il turbo e se si sta per rompere e avete intenzione di poter modificare gli altri componenti in futuro step by step quindi piano piano allora va bene altrimenti lasciate stare revisionate il turbo e rimanete su quello che è un soft tuning o pseudo soft tuning quindi evitate di fare delle sciocchezze importante è anzi fondamentale è un altro aspetto interessantissimo e importantissimo è di creare la base per avere un'accudabilità adeguata ossia detergente nell'olio motore mettere un sostituire l'olio nel cambio trattamento antiattrito motore cambio poi i trattamenti antiattrito ce ne sono tantissimi il cloroparaffine bisolfuro di moldeno ptfe e altre marche direttamente sono molto buoni ognuno poi ha la propria strada mi raccomando un sostituire il liquido di raffreddamento dopo i 150.000 km utilizzando un additivo nel liquido di raffreddamento per mantenere il monoblocco un po' più fresco ci sono alcuni casi in cui è meglio utilizzare un liquido racing questo qua una volta che noi parliamo possiamo decidere che cosa fare queste sono tutte informazioni che noi diamo a differenza magari di altri concorrenti o dell'altro mercato che probabilmente non vi danno tutte le informazioni sono a 360 gradi importantissimo è anche un additivo nel gasolio perché serve per non solo pulire gli iniettori e la pompa ma anche pulire quelle che sono le valvole e anche le camere di scoppio che spesso e volentieri sono piene di incrostazioni per colpa del gasolio che non è eccezionale anche se adesso stanno arrivando dei gasolio premium che sono sicuramente meglio dei gasolio normali standard questo è un piccolo va de mecum però c'è anche da dire che voi fate la differenza a parte che i tagliandi devono essere fatti ogni 10-15 mila chilometri non ogni 20-30 mila chilometri come in alcune case perché almeno tenete l'olio fresco non si ottura il filtro dell'olio e rischiate di avere meno sporcizza che tende a girare all'interno del motore questa è una cosa fondamentale l'olio è come il sangue per noi se è perfetto non abbiamo problemi e non abbiamo malattie se ci succede qualcosa è quello che arrivano le malattie stessa cosa per quanto riguarda il motore l'importante è due cose importanti fondamentali cool up e cool down che sono questi nomi il cool up è l'accensione e come deve essere fatto il riscaldamento si accende la macchina 30 secondi e poi ci si avvia andando tranquilli non bisogna tirare ricordatevi che quando arriva in temperatura l'acqua ci vogliono altri 5-6-7-10 minuti bisogna vedere in base alle temperature per far arrivare l'olio in temperatura e poi dopo si può tirare stessa cosa nel cool down ossia quando dovete raffreddare quando avete fatto una tirata non arrivate fermatevi 2-3-4 minuti e cesa al minimo assolutamente no perché la temperatura dell'olio si andrà a salire allora fate un chilometro andando piano quinta sesta andando 80-100 all'ora per raffreddare soprattutto per raffreddare la coppa dell'olio o l'olio direttamente chi c'ha un radiatore dell'olio si si ferma 30 secondi massimo un minuto e si spegne la macchina questo è un po' il va de me di quello che deve essere fatto fatto in questa maniera si può avere una preparazione a 360 gradi con un certo grado di affidabilità che prodotti utilizzare la dimensione della turbina il diametro dello scarico diametro intercooler tutto quanto sono a discapito di vostro partner che vi segue tutti i nostri clienti sanno che quando noi decidiamo un attimino di seguirli o ci vogliono seguire insieme a noi la preparazione sanno che prima del turbo deve essere creato il contorno ed ecco perché spesso e volentieri le nostre turbine hanno una vita media molto lunga perché noi non ci fermiamo al turbo ma guardiamo la preparazione a 360 gradi e cerchiamo di dare un certo grado di affidabilità ultima chicca poi dopo che chiudo coppia mi raccomando non esagerate con coppie esagerati in pochissimi giri ma più lunghe possibili questo aiuterà tantissimo la frizione il cambio differenziale di semiassi non vuol dire che la macchina vada di meno sentirete meno botta ma prenderà molti più giri primo e molta più velocità secondo invece che pattinare farete più strada e sarete molto più veloci in un determinato metraggio mi raccomando seguitemi su www.turbochargerworld.it facebook instagram il nuovo canale youtube IGTV il nuovissimo negozio ebay e mi raccomando signori ricordatevi che la turbocharger world trasforma la vostra passione in emozione di guida ciao 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 ciao